Ciao di Tizio, il delegato Abruzzo del WWF torna domani l'ora della terra. Quest'anno la Regione Abruzzo partecipa ufficialmente a questa manifestazione che rappresenta un gesto simbolico però di grande importanza. Sicuramente sì, quest'anno partecipa la Regione, partecipano tutti i parchi nazionali, il parco regionale, l'area marina protetta, tante oasi e tantissimi comuni, oltre al museo universitario. È una partecipazione che cresce, sì, è un gesto simbolico perché spegnere le luci per un'ora dalle 20.30 alle 21.30 non risolve i problemi del pianeta, sicuramente. Però si fa in tutto il mondo ed è la dimostrazione che tantissime persone nel mondo, in Abruzzo ormai la maggioranza dei cittadini, quasi circa un sesto dei comuni, delle città con tutte le più grandi città, è una dimostrazione che tanta gente crede nella possibilità di uscire fuori dai problemi del cambiamento climatico, di superarli e di lottare tutti insieme per avere un futuro migliore. È la partecipazione della Regione che tra l'altro sta facendo finalmente un piano di alattamento dei cambiamenti climatici, è significativa e importante. Grazie. Grazie.